per te era una sorta di derby quest'oggi a verona si per me è un derby perché arrivo da padova quindi per me è stato un altro derby e per fortuna vinto era una partita importante per noi adesso ci vediamo alle serie finali una grandissima partita della lube avete reagito alla grande nel quarto set dopo che nel terzo l'ha vinto casinski con una serie di battute incredibili se ci ha messo in difficoltà dopo un errore in attacco nostro poi andato lui è nato in serie lì è stata dura e ci ha messo subito sotto pressione diciamo che ha vinto lui il set siamo stati bravi nel quarto abbiamo subito reagito bene per noi e adesso ci aspetta mercoledì una partita molto importante mercoledì contro lo sgra un'altra praticuccia da sistemare se noi ci basta due set infatti dovremmo dare il massimo 100 per cento in quei due set e poi speriamo bene a vederci in berlino